È sempre un piacere vedervi così numerosi. In effetti, tanto grazie anche ai relatori che ci hanno preceduto, è vero, in questa fase più che mai mi sento disobbediente per quello che sto affermando nell'ultimo periodo. Vorrei dirvi anche perché secondo me la disobbedienza in politica, in certi dati momenti, è necessaria e soprattutto è un'opportunità di cambiamento. Sibaldi lo diceva prima, il cambiamento è un emergere di tensioni e in effetti disobbedire crea sicuramente delle tensioni e anche delle contrapposizioni. E raggiungere l'obiettivo politico, umano, oppure semplicemente di una declarazione di principio è complicato, è complicato sempre quando si tratta di ascoltare l'altro. Però per questo ritengo che in politica la disobbedienza sia necessaria perché prima che le cose cambino, tutto quello che è diverso e che sta modificando lo stato delle cose in effetti sembra un'eresia. Questa secondo me è la storia del Movimento 5 Stelle di cui brevemente vorrei raccontarvi in quanto quando il Movimento 5 Stelle entra in Parlamento nel 2013, io sono stata eletta per la prima volta nel 2013, di fatto era un movimento eretico perché entrava in politica, in Parlamento e praticamente spaccava il bipolarismo. Il bipolarismo con l'arrivo del Movimento 5 Stelle non c'era più, quindi abbiamo modificato effettivamente lo stato delle cose, siamo stati assolutamente originali nel pensiero. Un pensiero che secondo me va ancora oggi difeso, alimentato e consolidato e questa caratteristica nostra è proprio quella della trasversalità ed è il motivo per cui il Movimento 5 Stelle a mio avviso non deve scomparire, non deve morire. Il fatto che il Movimento 5 Stelle insista nel panorama politico italiano vi spiego perché secondo me è un'opportunità irrinunciabile per il Paese, proprio per le motivazioni per cui è nato. Il fatto di ragionare e stare all'interno dell'arco parlamentare senza quelle ideologie di appartenenza novecentesche, l'abbiamo spiegato molte volte qui a Parole Guerriere, il Movimento 5 Stelle si pone come soggetto originale, trasversale, che non ragiona più con le categorie tradizionali del centrodestra e del centrosinistra, quindi ha un suo afflato naturale al dialogo trasversale. Perché oggi la trasversalità in questo mondo moderno è un valore irrinunciabile? Perché le sfide che si pongono di fronte alla nostra società sono davvero, sono davvero di carattere planetario. Vi ricordo che qui abbiamo fatto un seminario che si chiamava Anime Ambiente, quale cambiamento, quale sviluppo? Abbiamo ragionato di questo, di come quello che sta accadendo in questa fase, che abbiamo definito di svolta antropologica, di come l'innovazione tecnologica incide tuttora nel nostro modo di pensare e di relazionarsi, di come ha avviato dei cambiamenti. Ecco, ci sono sfide come i cambiamenti climatici che hanno bisogno di tutta l'intelligenza, di tutte le capacità dell'intera politica. Allora, se vogliamo veramente occuparci di cambiamenti climatici, noi dovremmo avviare un cambio di paradigma industriale ed avviare la transizione energetica. Anche questo è un argomento che abbiamo affrontato qui. Se vogliamo fare una reale transizione energetica per cui cambiamo anche il nostro paradigma sociale, il modo di lavorare ed industriale, passiamo dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, sapete e sappiamo anche, lo sappiamo da rappresentanti politici, che ci vogliono investimenti per miliardi, se vogliamo fare qualcosa di veramente serio. Allora, se ci vogliono miliardi, noi dobbiamo stabilire come classe, come rappresentanti politici e quindi ovviamente come comunità, le priorità. Allora, se noi, dico qualcosa di cui magari parleranno i prossimi relatori, allora se in aula fra qualche tempo arriverà il MES, o meglio la riforma del MES, perché purtroppo il MES si è già consolidato nel 2012, questa è una riforma, però quando arriverà quel momento, se noi come politica vogliamo davvero lanciare trasversalmente un'alleanza in questo senso per frenare dei meccanismi distruttivi della sovranità degli Stati e quindi anche della possibilità di investire in quello che secondo noi può aumentare la qualità della vita e quindi una transizione energetica, un modo di vivere più sostenibile. E allora, ecco perché utilizzo ovviamente la storia del Movimento 5 Stelle e il mio percorso politico, per dire che siccome siamo in una fase anche noi molto critica, di confusione e sicuramente anche di crisi identitaria, io dico di non abbandonare la terza via, di non abbandonare l'essere originali e trasversali perché queste sfide noi le possiamo giocare come protagonisti, quindi se ci appiattiamo a posizioni cosiddette progressiste a sinistra oppure ancora guardando al centro-destra che secondo me in molti casi parla ancora con il linguaggio del Novecento, noi come partito, come forza politica possiamo anche sparire, può non succedere nulla, però come Paese perdiamo l'opportunità di avere già fatto un grande passo in avanti nel senso della trasversalità. Quindi io dico ancora che il Movimento 5 Stelle deve stare in Parlamento ma come forza antisistema, cioè il sistema neoliberista noi lo dobbiamo picconare culturalmente, dire che non va bene, dire che non va bene, che tutto deve essere orientato al profitto perché e qui voglio rompere diciamo un dogma che ci è stato affibbiato ma che in realtà anche noi poi alimentiamo forse in maniera superficiale in alcuni casi, anche il Movimento 5 Stelle deve dire che non c'è bisogno più di fare una lotta alla casta perché non c'è una sola casta da combattere e contro cui lottare perché casomai ci sono delle caste, mi riferisco alle lobby, alle corporazioni di cui parlava il professor Ugo Mattei, sono queste le forti battaglie che noi non dobbiamo rinunciare a fare altrimenti saremo complici di un sistema che vuole delle battaglie innocue e io invece non voglio stare in Parlamento e rinunciare ad un'opportunità seria che noi oggi abbiamo nel continuare ad essere motore del cambiamento e allora anche qui dobbiamo rafforzare la rappresentanza politica perché la politica è l'unico baluardo che rimane contro questi strapoteri e queste lobby ovviamente in senso deviati verso il profitto, il professor Mattei ha spiegato bene di come finanziariamente ed economicamente sono praticamente imbattibili, allora lì soltanto la politica, soltanto la forza degli stati, del diritto può vincere e la nostra battaglia politica quindi deve essere per i diritti, ecco perché la trasversalità del Movimento 5 Stelle può essere ancora vincente.